La valutazione finale assegnata a questo articolo di Irenuo è di 8.8 voti su un totale di 10. Risulta essere il più esclusivo di questa selezione. Le sue funzionalità sono potenza di aspirazione, ottimo rapporto qualità prezzo, livello del rumore. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo prodotto realizzato da Bedea ha conquistato una votazione di 8.6 su 10 punti totali. Risulta essere il più votato per questa categoria con 605 valutazioni. Le sue qualità sono ottimo rapporto qualità prezzo, livello del rumore, potenza di aspirazione. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Flintronic è di 8.2 su 10. Risulta al momento essere il più venduto online. Questo è un prodotto sicuramente tra i migliori attualmente sul mercato e si propone come una delle migliori soluzioni del settore. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Il voto complessivo di questo articolo di Nikru è di 8.6 su 10. Risulta essere il prodotto più regalato. I suoi punti di forza sono livello del rumore, ottimo rapporto qualità prezzo, potenza di aspirazione. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di HE è di 7.8 voti su 10. È il più scontato di questa selezione. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Ottimo rapporto qualità prezzo, potenza di aspirazione, livello del rumore. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Questo articolo di Lempestia ha riscontrato una valutazione di 8.6 su 10 totali. Risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo. Un ottimo prodotto, che si caratterizza per un'elevata qualità, sicuramente una delle migliori soluzioni per questa tipologia di articoli. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Grazie a tutti.